Terremoto a Mediaset. La drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi. Licenziato poco fa. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Mediaset si trova nuovamente coinvolta in un caso spiacevole di comportamenti inappropriati verso giovani stegisti. A differenza del precedente caso Andrea Gianbruno, questa volta Pier Silvio Berlusconi ha adottato un provvedimento più severo, decidendo di licenziare il dipendente senza esitazioni. Il precedente caso Gianbruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, aveva creato scalpore quando Antonio Ricci, papà di striscia la notizia, aveva diffuso fuorionda in cui Gianbruno faceva commenti inopportuni. Nonostante le polemiche, Gianbruno era rimasto in Mediaset. Ma ora il confronto con la nuova situazione è inevitabile. Il cameraman licenziato, di 55 anni, nega le accuse e denuncia disparità di trattamento rispetto al caso Gianbruno. Attraverso i suoi legali, sostiene che Mediaset abbia trattato la sua situazione in modo diverso. Nonostante entrambi i casi coinvolgano comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro. Secondo quanto riportato, le accuse nei confronti del cameraman includono commenti sessualmente espliciti rivolti a giovani stagiste durante uno stage a Mediaset. L'uomo avrebbe utilizzato frasi come, mamma mia, hai degli occhi incredibili, o, è fortunato il tuo ragazzo. Hai un curriculum completo. Non ti manca niente. Il licenziamento del cameraman solleva domande sulla coerenza delle politiche aziendali di Mediaset e sulle valutazioni etiche adottate in situazioni simili. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.